Ladies and Chesterfield, amici dei Fatti di SEO, oggi è una giornata importantissima per tantissimi motivi, il primo è perché abbiamo Andrea Motta con noi, che è un SEO che si occupa, non ha mai fatto SEO in italiano un giorno in vita sua, è una roba incredibile ragazzi, ciao Andrea intanto, come stai? Ciao Francesco, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Fatti di SEO, grazie, io sto bene, sto bene, sto benissimo. Bene, ma oggi io credo che tu debba stare parecchio bene, intanto subito arriva Demetrio e ti fa gli auguri, ma perché ti fa gli auguri Demetrio? Diciamolo, che sei diventato papà! Sì, ho avuto la fortuna di avere un figlio, il secondo, che è nato l'altro ieri, da Alessandro, mi è tutto bene. Certo, ti arrivano auguri, saluti, ringraziamenti, già ti vogliono un bene di pazzi, gli amici dei Fatti, perché tu sei tornato in Italia, vero? Com'è questa storia? Eh già, sì, praticamente io mi sono trasferito in Inghilterra, allora io sono siciliano, come probabilmente si sente dall'accento catenese. Non sei volpano, cioè questo... Eh, si sente, vero? Un po', un po'. Dieci anni fa mi sono trasferito in Inghilterra, in realtà io lavoravo come giornalista, ho lavorato, soprattutto ero freelancer per le varie testate, sia italiane che straniere, perché comunque l'inglese e lo spagnolo le ho sempre masticate, masticati, e a un certo punto ho deciso, insoddisfatto, diciamo, delle paghe da giornalista che si beccavano, soprattutto al sud, perché non avevo mai lasciato l'assolato sud Italia, in particolare la Sicilia, ho deciso di andare in Inghilterra e poi alla fine sono andato, sono rimasto dieci anni in Inghilterra. Lo dimentico sempre, ma io in realtà sono andato in Inghilterra per studiare, cioè il primo anno, è passato così tanto tempo che non ricordo, ho fatto una laurea specialistica in giornalismo, e poi mi sono buttato subito sul mondo del lavoro in Inghilterra, per mantenermi lavoravo, per un anno quasi ho lavorato come praticamente portiere notturno per una catena di albergo internazionale, e il giorno anziché dormire facevo da freelancer sempre, soprattutto io facevo il giornalista sportivo, quindi in Inghilterra e Londra in particolare ci sono decine e decine di squadre di calcio. No, senti, ma io ti devo fermare, io te lo devo chiedere, ma come, ma a un certo punto pigli e vai, ma c'avevi un parente, un amico, no? Ma come hai fatto? Perché tanti magari ogni tanto nella vita fanno un pensiero del genere, no? Tu avevi fatto, hai detto che hai preso una specializzazione, quindi avevi tipo una triennale? Sì, avevo una triennale in lingua e comunicazione, è il modo migliore, sì, il modo migliore poi per imparare le lingue in realtà è vivere fuori, puoi fare tutti i corsi che puoi, ma nove persone su dieci non sapranno mai una lingua, poi per carità io mantengo, come mantengo ancora il mio accento siciliano dopo dieci anni all'estero, anche quando ero in Inghilterra mantenevo comunque il mio accento inglese con l'accento italiano, però non è quella la cosa più importante, l'importante è capire, farsi capire. La devo dire, diciamola una volta per tutte, ciao Francesco Margherita, ragazzi se volete far comparire la vostra faccina andate su streamyard.com slash facebook e abilitate la privacy, così e così loro possono rubare tutti i vostri dati, compreso il vostro primo genito maschio, nel tuo caso il maschio è il secondo genito, ma il primo, vabbè, lascia perdere. Mi dicevi che non c'è modo migliore per imparare la lingua che stare lì sul posto. Quindi mi sono buttato, insomma, mi sono buttato ed è andata bene e poi praticamente a un certo punto, dopo aver fatto, come dire, ciao Roberto, dopo aver fatto, diciamo, la mattina, la notte il receptionist, la mattina, anziché dormire il, diciamo, il giornalista, a un certo punto ho fatto uno stage al Guardian, un giornale che probabilmente molti di voi conosceranno, il Guardian, il giornale inglese. Guardian, è certo. E praticamente lì ho passato un mese nell'immensa sede londinese, supportando la redazione in una miriede di compiti, dalla redazione di trafiletti per la versione cartacea del giornale, alla realizzazione di podcast, ai lanci dei pezzi su Facebook, su Twitter, ma ovviamente anche l'ottimizzazione degli articoli pubblicati nel giornale. Ma come si passa dal portiere di notte allo stage al Guardian? Tu questa cosa me la devi spiegare, perché mica tutti ci riescono. Eh già, la cosa bella è che comunque in Inghilterra chiunque può fare domanda a un lavoro online, manda il proprio curriculum, manda le proprie esperienze. Io comunque nel mio piccolo avevo comunque fatto delle belle esperienze come giornalista, nel senso che avevo, non so se tu sei un appassionante, sicuramente sei un appassionato di musica, per questo ti sto onorando con dei dischi in vinile alle mie spalle. Infatti io sto guardando quello che c'hai dietro, è molto anni sessanta, no? Già, molto vintage. E praticamente, sì, dicevo, ho intervistato, per esempio, se qualcuno segue il calcio che ci segue, per esempio Diego Pablo Simenone, l'allenatore dell'Atletico Madrid, oppure Maurizio Pochettino, che attualmente è l'allenatore del Paris Saint-Germain, l'allenatore di Messi, per capirci, per quelli che magari non capiscono tantissimo di calcio. Quindi comunque avevo un curriculum che alla fine della fiera non era così male. Quindi il receptionist era chiaramente un mestiere temporaneo per mettere da parte anche un po' più di denaro e non farmi mantenere interamente i miei genitori, perché, ragazzi, Londra è una città incredibile a livello di costi. E quindi questo, quindi sono andato al Guardian, da saggista i compiti erano abbastanza basilari, ma comunque mi hanno avvicinato alla professione delle SEO, del SEO, diciamo così. Un po' di keyword research per aiutare con titoli e headings degli articoli. Ah, quindi hai cominciato a fare SEO dentro al Guardian. Certo, certo. Ma faccia, bellissimo. Un po', e poi tanto internal linking, per aiutare a dare visibilità ai contenuti interni, e chiaramente anche un pizzico di external linking per fornire ai lettori contenuti utili con i link esterni. Chiaramente, ovviamente, tutti no follow all'epoca, anche se poi sappiamo che alla fine, come dire, non cambia poi così tanto, soprattutto recentemente, secondo me. Però magari ne parliamo più tardi. Ne parliamo, ricorda. E poi niente, poi quest'ultima esperienza mi è affascinato così tanto che al termine dello stagio ho deciso di rimanere comunque nel mondo del digital marketing in generale. Primo ho lavorato in-house per un'azienda che si occupava di informatica, comunque facevano dei corsi, diciamo così, e io ero la persona, il tuttologo del marketing digitale, senza quasi nessuna esperienza, pagato quattro lire nella carissima Londra. Mamma mia. E poi niente, dopo quasi un anno che ho lavorato in questa, dopo un anno che ho lavorato in questa azienda ho detto, devo assolutamente muovermi in un'agenzia, perché ritengo le agenzie quanto di più dinamico e istruttivo esista per una persona in inizio carriera. Perché, come ben sappiamo, o comunque sanno le persone che hanno avuto esperienze simili o che le hanno tuttora passi di settore in settore, di mercato in mercato, da clienti locali a colossi internazionali nel giro di poche ore. Quindi sono rimasto, mi sono spostato da Londra a una città più piccola, in Inghilterra, che si chiama Bormut, nel sud dell'Inghilterra, sul mare. Mi sono un po' stabilizzato, mi sono sposato con mia moglie straniera, polacca, conosciuta anche lei in Inghilterra. Ah, ok. Abbiamo comprato la nostra prima casa in Inghilterra, eccetera, eccetera. E poi, niente, in poca prova siamo rimasti, credo, quasi cinque anni in Bormut. La nostra figlia è nata là. Ho lavorato in due agenzie in Inghilterra, anzi in realtà tre. In realtà tre, la cosa pazzesca, e questo lo dico per tutti quelli in ascolto, sempre per spezzare, per far capire che a volte tutto il mondo è il paese, la cosa incredibile è che quando mi spostai da Londra a Bormut per lavorare in un'agenzia, dopo tre giorni che lavoravo in questa nuova agenzia, ero tutto contento, mia moglie ancora lavorava a Londra, io lavoravo in questa città, lei mi avrebbe raggiunto due settimane dopo? Sì? Il proprietario dell'agenzia mi strinse la mano, mi disse, andrà tu sei straordinario, ma fra un mese chiudiamo l'agenzia. Oddio mio! Ho detto, ragazzi, mi avete fatto lasciare la mia vita a Londra, io ancora continuavo a pagare il mio affitto, vivevo in un hotel a Bormut, e ho detto, ci sono due le cose qui, o mi metto un cappio al collo, oppure, dopo un attimo di smarrimento, mi metto subito a cercare un altro lavoro, e dopo tre giorni avevo altri tre lavori, sempre nel digital marketing. Questo però in Italia non succede, attenzione. Questo sì, però, diciamo, la morale della favola potrebbe essere, mai disperare, provare sempre, diciamo, sia non farsi, come dire, sommergere dal... Ma tu lo sai, Andrea, io ho la sensazione, tante volte, che basta mettersi sulla strada, perché poi le cose succedono. Un po' come dire che quando il Signore chiude una porta, apre un portone, ma a me mi sembra sempre che nella vita, non sono neanche particolarmente credente, però le cose sono sempre successe quando mi servivano, e anche a te in quel momento ti serviva, e ti sei trovato travolto, dico, ma le persone come te, le persone che hanno avuto il coraggio proprio di afferrare la vita a due mani, e andarsela a prendere qualunque cosa succedesse, le occasioni, secondo me, ti sono sempre capitate. Allora, quindi hai trovato altre, sempre in quella città del sud dell'Inghilterra? Sì, sì, sì. Comunque, riassumo, magari, comunque sono stato un po' di anni in varie agenzie inglesi, di solito si faceva, mi occupavo di tutto all'account management, alla gestione dei social media, paid ads, Google Tag Manager, analytics, un po' di SEO sempre, di SEO, però mai quanto, diciamo, mi piacesse, perché soprattutto se si faceva tanto tecnico l'SEO, raccomandazioni che dava ai clienti, che poi non li implementavano, perché non avevano budget, o non le capivano, non gli interessava, o non interessava loro. Poi sono passato da un'altra agenzia in cui, diciamo, avevo un ruolo un po' più senior, e, diciamo così, gestivo un team di Digital Marketing Executives. Io magari mi occupavo di plasmare la strategia per i miei clienti, e poi la implementavano loro sotto mia guida. Però poi è arrivato il Covid, che ha, diciamo, cambiato le vite un po' di tutti noi, dopo una settimana per lavorare per la mia ultima azienda, ho cominciato a lavorare da casa, come probabilmente molti di quelli che ci ascoltano, forzatamente. Poi finita la pandemia, la assumo così, cioè comunque il primo anno di pandemia, in Inghilterra, come probabilmente avete sentito, l'approccio era molto free, ed è tuttora molto free. Io sono stato a Londra per lavoro, brevissima parentesi, pochissimi giorni fa, per due giorni e mezzo. Per fortuna mio figlio non è arrivato mentre ero a Londra. e sembra di essere totalmente in un altro mondo, nel senso che le mascherine non si portano da nessuna parte, non c'è nessun green pass da nessuna parte, in ascensore, nei grattacieli in cui sono stato, nei giorni scorsi, anche in Olanda. è così, in buona parte del nord Europa è così, loro sono avanti. E quindi in poche parole, ci hanno obbligato, ci hanno detto di tornare al lavoro, fisico, ma io in quel momento avevo cominciato a pensare, io posso lavorare dove voglio nel mondo, forse non devo per forza vivere tutta la vita in Inghilterra, forse posso tornare nella mia assolata Sicilia. E quindi sono tornato un paio di mesi con mia moglie che è straniera, come ho detto prima, quindi potrebbe essere anche uno shock negativo, portarla nel caos del sud Italia. Però alla fine della fiera le è piaciuto, è piaciuto a me. Poi siamo quindi ritornati per traslocare, vendere la nostra casa nostra, eccetera, eccetera. Diciamo, da inizio 2022 siamo qui in Italia, lavorando tranquillamente come prima, non è cambiato nulla, perché io ormai da un anno lavoro per un'azienda straniera che ha l'approccio di far lavorare tutto il proprio team, più di 200 persone, in 22 paesi diversi, pienamente in remoto, fully remote. E quindi siamo arrivati a oggi. Quindi tu lavori esclusivamente in inglese per un'azienda inglese da Catania. L'azienda in realtà, per essere, diciamo, specifico, è una SaaS, una software as a service, inizialmente una startup, poi adesso un po' più matura, si chiama Brighter, praticamente è stata fondata in Germania, però piano piano si sta espandendo in vari paesi del mondo, in poche parole, tanto per dare un po' di informazione di contorno, Brighter è un software che permette ai giuristi, ma non solo, di automatizzare task ripetitivi senza bisogno di conoscere alcun linguaggio di programmazione. Andrea, ma tu ti occupi quindi di SEO per questa azienda che rivende questo servizio. Corretto, corretto. Ma allora, allora, e quindi io penso che a questo punto, io sono stravolto dal tuo racconto, cioè finora è sorprendente, è una roba che proprio a me mi fa pensare che del resto io mi faccio abbastanza schifo proprio a sentirti dire queste cose, perché a me proprio io sono il tipo che dove mi metti là mi trovi, tu invece sotto sopra una vita dinamicissima, una cosa incredibile. Io quindi vorrei subito andare con le varie provocazioni, ti faccio, ti lancio prima quella di Michele e poi a seguito a ruota quella di Clemente e Michele ci chiede appunto se un SEO deve saper programmare, quindi visto che ormai è diventato un tormentone, lo chiedo a te, immagino che tu non sappia programmare. Immagini benissimo, io non so programmare, quindi è la risposta che secondo me è non, deve però chiaramente essere in grado di capire quando magari utilizza dei software di terze parti come CM Rush, come per esempio non so, Ahrefs o Screaming Frog, capire quali sono come dire le criticità che vengono mostrate da questi software, chiaramente indirizzare e spiegare ai web developers cos'è e poi magari aiutarli anche a capirlo e poi loro stessi in base a loro expertise se la loro esperienza riusciranno a risolvere i problemi che sono nel codice. Quindi un SEO deve sapersi interfacciare, deve saper trovare soluzioni che poi chi mette le mani al codice deve essere in grado di operativizzare e questo è ormai è diventato un punto di vista molto diffuso. A me piaceva moltissimo la provocazione di Clemente che invece dice ma scusate vorrei fare una domanda controcorrente ma un SEO deve essere per forza un copy questa è bellissima questa domanda. Bella domanda secondo me no nel senso che funziona in maniera simile cioè tu non devi sapere scrivere diciamo così non devi essere un esperto di content anche perché spesso si lavora con clienti o per aziende diciamo così specializzate in settori di nicchia che tu magari puoi assumere un copywriter esterno anche a pagamento diciamo per occuparsi magari di scrivere di ligo per esempio di legge oppure di scienza eccetera eccetera il SEO chiaramente secondo me deve saper consigliare quelli che possono essere i topic da toccare consigliare quelli che possono essere per esempio i link interni da aggiungere dove aggiungerli eccetera eccetera fare sì che in quel contenuto vengono applicate diciamo tutte le best practice che noi conosciamo SEO e fare sì che hopefully di nuovo allora in realtà utilizzi gli stessi termini inglesi che usiamo noi però tu li dici meglio perché tu hai la pronuncia giusta e allora per esempio a me fa strano quando guardando le live precedenti voi dite sempre SEO per me è SEO SEO no è chiaro è chiaro a me piace infatti molto dice concordo con te dice Clemente vedete ma è un po' così come il SEO non deve sapere programmare non deve sapere per forza neanche fare il copy per cui adesso io lo so che tanti si staranno chiedendo ma che cazzo dovete saper fare voi SEO no il SEO deve averci la testa strana nel senso deve deve riuscire a leggere dentro al codice delle read come metri che cosa fa secondo te di un SEO un SEO migliore di un altro nel senso che cos'è che al di là della conoscenza tecnica che comunque non è da sottovalutare perché poi tante cose mica le sanno tutti ma a parità di conoscenza tecnica che cosa fa di un SEO uno cioè che cosa fa lui però è più bravo secondo me sta per spiegare quindi essere diciamo un buon oratore però in senso positivo diciamo non un oratore un venditore diciamo così ho capito quindi ok perché uno ci si uno si potrebbe confondere no e pensare saper spiegare saper parlare come dire saper avere ragione l'arts oratoria diventa uno strumento di vendita invece no si tratta anche di far passare certi concetti laddove le persone non capiscono manco che facciamo perché non programmiamo non facciamo i copi qualcosa dovranno fare sti SEO sanno parlare e quindi quello è ma quindi non hai fatto non hai fatto se sei un italiano proprio mai mai paradossalmente quando sono tornato all'estero ho avuto modo di collaborare diciamo brevissime collaborazioni con imprenditori locali catanesi un paio di loro li ho aiutati diciamo a migliorare a mio avviso ottimizzare i loro siti eccetera eccetera quindi in realtà un pizzichino di italiano così nel tempo libero l'ho fatto però sì ho lavorato sempre pienamente con aziende straniere sia quando ero in Inghilterra che adesso e senti nella poca esperienza di SEO in italiano ti è capitato di trovare differenze tra la risposta di Google Co.uk e Google.it da questo punto di vista devo dire devo dire di no in realtà Google invece sembra coerente da questo punto di vista consistent sia in italiano che in lingua straniera ho trovato differenze nell'approccio sicuramente delle persone dei clienti in Inghilterra devo dire che il mondo del digitale è molto più come dire diffuso cioè tutte le aziende hanno una sorta di presenza online dalle piccole aziende a quelle più grandi e quindi sicuramente è diverso cioè viene dato il peso giusto all'online quasi tutte le aziende anche i piccoli caffè per fare un esempio hanno magari un'agenzia con cui anche lavorano non so quattro ore al mese per fare un esempio è entrato molto di più è entrato molto di più intanto diciamo pure quali sono i SEO italiani peggiori che ha trovato Andrea vabbè questa sta facendo il verso ho trovato un bellissimo articolo del 2013 di un tale Francesco Margherita ma funziona tutti gli anni porca paletta ma quella roba insomma tantissime domande mi vengono mi vengono in mente da farti ma te ne vorrei fare una che è un pochetto più personale è una domanda che mi piace fare perché cerco di cogliere un po' il lato umano dei professionisti in particolare soprattutto nel tuo caso soprattutto considerando il coraggio l'intraprendenza più che altro che hai avuto ma c'è stato mai un periodo un momento in cui prima mi hai raccontato di quell'agenzia che è chiusa subito dopo averti assunto ecco ma qual è stato il momento più preoccupante quello dove ti sei proprio preoccupato ma che sto facendo ma ho sbagliato tutto mi arrendo che devo fare come faccio adesso diciamo che ho il difetto che poi forse a volte può essere anche un pregio che io o vedo tutto bianco o vedo tutto nero che non è un pregio in realtà però in questo caso si è rivelato un pregio nel senso che chiaramente ho deciso di mettermi in gioco e infatti ricordo i miei genitori quasi quasi poi mi hanno la prima volta che sono venuti a trovarmi a Londra quando ho avuto l'opportunità di vedere la mia prima casa che chiaramente era una casa condivisa con altre 4-5 persone dei paesi più disparati del mondo non so se si misero piangere hanno saltato la testa sul muro perché dicevano la qualità lo standard di vita di Andrea prima di che andasse a Londra all'inizio sicuramente a Catania era migliore però chiaramente io ho detto o diciamo ottengo qualcosa di importante ovvero imparo qualche skill che poi posso utilizzare nella mia vita a me mi viene in mente una roba che scriveva Clemente prima quando parlavamo di cosa rende un SEO migliore di un altro e lui ha scritto l'empatia che è una roba che a me mi affascina molto perché empatia può voler dire molte cose non necessariamente empatia con altre empatia con il tuo interlocutore che magari può essere il board di una di un'azienda o un referente tecnico o altro empatia con tutte le persone che magari rientrano questo è il mio pensiero non so se Clemente può essere d'accordo o tu per esempio empatia con con le persone che stanno nel segmento di cui mi sto occupando cioè che cosa sta pensando veramente chi deve cercare chi sta cercando casa a Milano in questo momento certo chi sta cercando un cucciolo di Chihuahua che cosa vuole cosa cerca in realtà quanto i tool ci aiutano e quanto invece abbiamo bisogno di guardare altrove rispetto ai tool secondo te certo è Sam Rush che è uno dei tra l'altro credo tu collabori con loro in Italia se non vado l'ambassadore italiano ambassadore però che brutta parola ambassadore è uno dei tool che a me piace di più tra l'altro li ho provati credo non voglio dire quasi tutti però quelli mainstream o quelli più famosi li ho provati sicuramente adesso di recente ci dà anche l'opportunità di vedere il search intent associato alle parole chiave quelle che hanno più diciamo search volume average search volume ogni mese empatia in questo senso provare anche come dire a non fare questo mestiere come una persona che semplicemente utilizza dei tools e prende tre guguette crea delle spreadsheet su Excel passa tutto a persone che devono implementare e basta ma bisogna effettivamente avere empatia e comunque pensare diciamo così essere un essere pensante è decisamente importante ponderare diciamo così sì ecco riuscire ad ascoltare hai presente quando si dice leggere tra le righe certo è un po' come un origliare conversazioni metropolitana tu stai in treno senti due e che parlano non è che hai fatto un focus group quando si fanno il focus group le persone sanno di essere ascoltate sanno che la loro opinione verrà registrata e utilizzata con finalità statistiche cosa molto diversa invece è prendere un treno prendere un aereo ascoltare la gente parlare raccontano dei fatti loro ovviamente non puoi decidere tu cosa diranno certo è vero probabilmente come dire correggimi se sbaglio perché questa in realtà sarebbe una domanda per te per voi perché avete più contezza di quello che succede in italia sicuramente mi sa che non molti riescono ad avere questa a vedere la seo con questa diciamo da questo angolo da questa angolatura come si dice l'italiano angolo è prospettiva è meglio così tagliano la testa al toro però mi è capitato per esempio recentemente a proposito della mia pochissima esperienza italiana di mettere mano un sito che in teoria era stato fatto da una azienda che si occupava di non so tutto web development seo non so tutto e praticamente diciamo il modo in cui questo sito era sviluppato in poche parole la seo diciamo era ottimizzata era a mio modo di vedere non era come dire basata sulle ultime sulle recenti best practices c'era per esempio ti faccio un esempio tutti i pezzi che c'erano nel blog per esempio utilizzavano sempre le stesse parole chiave ripetute svariate volte un uso brado del grassetto per fare sì a modo loro che google noti quelle parole più che altre le schede prodotto in cui si per diciamo creare più contenuti come dire si descriveva cos'era per esempio ti faccio un esempio si vendevano piante tipo il rosmarino la scheda prodotto che iniziava parlando di cos'è il rosmarino in stile wikipedia per capirci cioè voglio dire chiaramente tu vuoi attrarre persone che vogliono sapere cos'è il rosmarino tu vuoi vendere il rosmarino infatti infatti ci dice Michele senatore ma senti arriva una bellissima domanda da Demetrio già che ecco capitalizziamo l'esperienza di questa chiacchierata lui ci domanda tre aspetti fondamentali per fare SEO all'estero poi se ne vuoi dire soltanto due o quattro vedi tu però lui vuole sapere quali sono proprio le cose che devi sapere mi sa che Demetrio vuole scrivere un blog per il suo per il suo non so uno dei suoi clienti sembra il perfetto titolo è vero sì sembra un post title il typical listicle no come si suol dire a parte gli scherzi sicuramente ovviamente se Demetrio volesse andare per esempio all'estero e lavorare per azienda estera e chiaramente avere una conoscenza dell'inglese è sufficiente a capire tutto ciò che viene ovviamente chiesto dal cliente o dal dottore di lavoro e ovviamente farsi capire per quanto riguarda la metodologia del lavoro secondo me non cambia cioè quei piccolissimi lavori che vi ho detto ho fatto per dei clienti italiani la metodologia il modo in cui mi sono come dire approcciato al lavoro è stato esattamente lo stesso che ho fatto in inglese quando l'ho fatto in italiano quindi sicuramente secondo me non c'è differenza da questo punto di vista credo solo la lingua di me dice Michele giustamente secondo me solo la lingua senti ma tu ti rendi conto Andrea che fondamentalmente se non fosse stato per il covid adesso staresti ancora lassù ci hai pensato una cosa ci ho pensato tante volte ho pensato che a volte ci creiamo delle sorte di come possiamo dire di muri invalicabili immaginari tutto o quasi tutto è risolvibile ciò che comunque non riguarda problemi insormontabili come dire la salute eccetera eccetera cioè volere potere secondo me quindi tutto si può fare in questo caso però ma saresti potuto tornare anche indipendentemente dal covid certo avresti potuto fare però questa è stata una spinta che poi ti ha permesso di cioè ti ha dato sì cioè c'è un mondo tra virgolette sconosciuto ai tanti che però piano piano sta diventando sempre più famoso dei lavori da remoto la cosa importante come diceva qualcuno prima è sapere appunto avere un inglese sufficiente per permetterti di capire la consegna lavorativa di poterla spiegare di poterla mettere in pratica eccetera in un paese come l'Italia dove i professionisti diciamo più blasonati non lo parlano in maniera diciamo professionale è un asset incredibile secondo me cioè vai non so in Polonia in Lettonia in paesi scandinavi Germania Francia cioè dai 40 dai 50 anni in meno praticamente tutti parlano un inglese comunque noi italiani chissà poi qual è il motivo forse il fatto che non solo l'approccio perché ovviamente io le scuole le ho fatte in Italia forse l'approccio che diciamo siamo l'insegnamento dell'inglese è basato soprattutto sulla grammatica ed è spiegato in italiano per esempio cioè noi hai ragione hai perfettamente ragione mentre invece all'estero l'insegnamento dell'inglese è più pratico e poi comunque sono anche abituati i suoni in maniera diversa perché noi abbiamo una scuola di doppiaggio straordinario in Italia e sono bellissime da vedere i film in italiano ma vedere i film in lingua originale oltre a darci l'opportunità per esempio di sentire la voce di Al Pacino in inglese che è fantastica per esempio abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora le scuole non so se avete io vi consiglio di ascoltare la voce di vedere un film con Al Pacino anche Robert De Niro in lingua originale cioè la loro voce è totalmente diversa rispetto a quella italiana per carità soprattutto a Mendola il compianto a Mendola era straordinario come doppiatore all'epoca sì però certo questa è una fa sì che chiaramente non siamo abituati senti io mi sono accorto di una cosa nonostante io sia molto toccato da quello che sta succedendo sia veramente colpito e sono senza parole perché veramente credimi non ho idea di cosa dire infatti sto zitto non dico niente al contrario di tanti che invece sembra che abbiano un sacco di opinioni da esprimere su quello che succede quando lavoro e sono sorpreso di questa cosa io non riesco penso solo a lavoro cioè non sono talmente focalizzato sulle cose che faccio che incredibilmente quando mi siedo la mattina davanti al computer per lavorare le preoccupazioni sono sempre solo quelle del lavoro non so se ti capita la stessa cosa o se rimane comunque uno spazio ti dico che leggermente per motivi diversi mi ha colpito un po' di più questa guerra rispetto magari a una persona che vive in Italia non so tanti migliaia di chilometri di distanza per vari motivi numero uno la famiglia di origine mia moglie vive in Polonia quindi non distante dall'Ucraina la Polonia si è comportata in maniera straordinaria nei confronti dell'Ucraina senza avere come non Italia campi nomadi in cui tra l'altro per fare una breve parentesi molti ci marciano con questi campi nomadi in Italia ricevano soldi dell'Unione Europea eccetera eccetera i polacchi semplicemente con naturalezza forse ricordando anche le pene che hanno passato 70 anni fa 80 anni fa quasi ogni famiglia polacca credo abbia un parente che è morto vicino o lontano in un campo di concentramento eccetera eccetera sanno e ricordano i drammi della guerra quindi prende hanno ospitato tantissimi polacchi per esempio la famiglia di mia moglie quasi tutti hanno a casa almeno una famiglia ucraina soprattutto madri e bambine perché ovviamente i padri i mariti i uomini sono rimasti nel paese o per combattere comunque se dovessero essere chiamati alle armi e in più nella mia azienda che come dicevo inizio puntata diciamo così abbiamo personale che lavora colleghi che lavorano tutto il mondo da 22 paesi se non sbaglio in questo momento abbiamo anche un paio di persone tra cui una ragazza che lavora nel growth marketing quindi una mia collega con cui lavoro diciamo a stretto contatto diciamo le fornisco io tutte le keywords su cui lei poi può diciamo fare google ads ed altre cose quindi tra l'altro ogni volta che va con le branded search abbassa sempre i click i miei click brandizzati perché spunta prima il nome spunta prima google ads piuttosto che me lei è ucraina è stato bello rincontrarla la scorsa settimana a Londra quando anche lei è riuscita a viaggiare ha attraversato il confine in credo autobus forse pullman o treno da Varsavia dalla Polonia poi volata a Londra è stato bello diciamo vederla abbracciarla e vedere che fosse viva diciamo così e quindi sì diciamo che mi è capitato di pensarci non ci dimentichiamo e lo dice Demetrio che siamo fortunati siamo veramente tanto fortunati talmente tanto fortunati da poter fare quello che dicevo io prima cioè sederci al mattino davanti a un computer e pensare soltanto alle preoccupazioni del lavoro e magari stressarci anche per il lavoro pensate se non avessimo la fortuna di avere come unico stress il lavoro però in effetti non è di questo che dobbiamo parlare oggi perché non compete a noi parlarne era giusto così una piccola parentesi peraltro sul far della sera perché vedi Andrea sono ormai 4 minuti alle 7 e quest'ora è veramente volata e io sono veramente felicissimo di aver fatto questa conoscenza perché poi diciamolo anche a chi ci ascolta noi ci siamo fondamentalmente conosciuti stasera prima di salutare Andrea volevo ricordare che se avete almeno 5 anni di esperienza in questo lavoro e volete partecipare come ha fatto Andrea e lo ringrazio tantissimo di essere stato con noi stasera volete partecipare scrivetemi su francesco chiocciola seogarden.net e candidatevi così io vi schedulo come ho schedulato Andrea a suo tempo Andrea era preoccupato perché quando mi scrisse sapeva che poi sarebbe nato suo figlio e quindi alla fine è finito proprio un giorno prima quindi scrivetemi su francesco chiocciola seogarden.net grazie a tutti di essere stati con noi Andrea di nuovo grazie mille grazie a te Francesco se posso dire una cosa alla fine ora che sono tornato in Italia leggevo di un tuo post qualche tempo fa in cui dicevi magari di incontrarci tutti i SEO italiani io qualche anno fa sono stato Brighton SEO non so se lo conoscete è stata un'esperienza fantastica in cui ci sono state per diciamo networking conoscere tanti SEO in quel caso stranieri non so se esiste in Italia una roba del genere non so se sia una passeggiata come quella che avevi proposto tu in un parco romano o una sorta di non so Benevento SEO o qualcosa del genere si potrebbe fare comunque sarebbe bello organizzare qualcosa per fare anche quello che tu da tanto tempo sottolinei come siano delle cose più importanti ovvero divulgare i principi di questo mestiere anche perché più persone riusciranno a capirci più tra virgolette anche lavoro ci sarà per tutti in realtà più sarà capito più sarà semplice come dire fare sì che anche le aziende abbiano fiducia nei professionisti e investano però è bella questa cosa perché se n'era anche parlato allora io ci sto provando ragazzi datemi ancora un po' di tempo adesso che finisce di svernare mi sento benevento perché credo tu sia basato benevento corretto o no sono vicino benevento ho detto benevento ma poteva essere anche non so pavia io lo vorrei fare a Roma vorrei dai vi faccio sapere vi faccio sapere chi porta la pizza chi porta il pallone io porto il pallone per esempio allora dai adesso l'abbiamo detta veramente tutta Andrea grazie ancora grazie ai fatti di SEO che sono stati con noi grazie Michele Demetrio Clemente tutti quelli che sono stati collegati ci vediamo la settimana prossima ciao 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 ciao